Una buona notizia per il popolo degli abusivisti edilizia a Cava dei Tireni, c'è una novità forte. Sì, abbiamo presentato questa mattina in conferenza stampa una delibera alla quale da mesi stavano lavorando gli uffici comunali, l'avvocatura comunale, il segretario generale, i dirigenti al ramo. Una delibera che detta i tempi per dare attuazione alla legge regionale numero 5 del maggio 2013, voluta fortemente anche dal nostro consigliere regionale Giovanni Balli, che consente agli abusivi di necessità e solo a quelli, una volta acquisita la casa al patrimonio del comune, di rimanervi come inquilini con un pagamento di un fitto politico simile a quello dell'edilizia residenziale pubblica. Una delibera molto complessa, sette punti che sono stati presentati al nostro segretario generale a nome di tutto l'apparato burocratico, per dire che è un'operazione che è soffragata dalla professionalità di tutti i nostri tecnici e dei nostri legali, sulla quale dovremo lavorare in tutta la parte finale della consigliatura. Immaginiamo, proporremo questa delibera subito dopo l'approvazione dell'assessamento di bilancio il 29, quindi sarà proposta concretamente la prossima settimana. Credo che a metà di ottobre arriveremo a questo Consiglio Comunale, mi auguro, con il coinvolgimento di tutte le forze politiche che hanno sempre manifestato grande attenzione rispetto al tema dell'abusivismo di necessità. E poi si apre questo processo attento, lungo, caso per caso, di studio delle singole posizioni, perché ovviamente soltanto chi non ha un'altra casa a disposizione potrà avvalersi di questa normativa. E diciamo che finalmente potremmo dare a quanti, pur avendo sbagliato, perché chi ha commesso un abuso e delizio ha fatto un grave errore, ma pur avendo sbagliato l'ha fatto per necessità ed ha comunque un problema che è suo, ma che è anche un problema sociale, che è quello di un'abitazione. Per cui credo che con questa ultima azione che connoterà gli ultimi sei mesi del governo Galdi risolveremo definitivamente un problema che ha angosciato tantissimi cittadini. Si parla di 2.000 costruzioni abusive a cava dei terreni, se non 2.000, 1.800, 1.700 saranno salvate con questo tipo di destinazione ad ausenso sociale e quindi anche le famiglie che ci sono dentro potranno finalmente dopo anni tirare un respiro di sollievo. Si conta che sono circa 10.000 cittadini di casa interessati direttamente o indirettamente, quindi anche ad essi abbiamo reso, credo, un buon servizio.